Musica sono stoop 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 Grazie a tutti. 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 Lo sto guardando da fuori innanzitutto. Ma che sto facendo? Sta fermando. Io li sto fermando. Loro si fermano da soli. Io che sto facendo? Non sta facendo nulla. Non ha più stress. Allora, innanzitutto non sto facendo nulla e sto aspettando, sto aspettando che loro si calmino, ok? Molto spesso, quello che diceva questo insegnante è che noi andiamo a finire qua dentro, cioè il problema è quando noi siamo troppo coinvolti e stiamo dentro a questo barattro, ok? Quindi quello che lei diceva... Quindi quello che lei diceva è quando voi si sentite troppo coinvolti... da quello che ci succede, tra poco coinvolti da quello che ci succede, tra poco coinvoltivamente, per cui non riusciamo a vedere chiaramente. Adesso già si vede un po' meglio, ok? Quello che lei diceva è ricordatevi di aprire il tappo, ok? Ed uscire. Ha visto pure per levare tutta la schiuma, no? Noi abbiamo dovuto levare il tappo perché era diventato un casino. E abbiamo dovuto cercare di mettere pace, tra piccolette, in questa situazione. Allora, quello che possiamo fare adesso, due o tre minuti, è ascoltare un po' questa musica, ci dà un attimo una calmata e ci rilassiamo un pochetto. Visto che la giornata poi, insomma, è ancora un po' dura e ci avete la verifica, quindi mi immagino il cervello come sta. No, vuoi ascoltare tutta la brava? Ottimo, ok. Ognuno che ha l'ansia, che ha la boccia, che sta ascoltando il telefono, preoccupato, ok? Due minuti, ok? Quando volete, iniziate a tappo chiuso, ovviamente, e ad aggirare queste cose, questi barattolini. E poi, osservate lì, mentre li poggiate, e li osservate fino a che tutti in litter non si sono fermati, più o meno. Poi è probabile che magari non si prendino neanche le occhi. io spet the Ciberman Zorbrani C'è la Ciberman Zorbrani si si serve, pote stai La Ciberman Zorbrani nella Ciberman Zorbrani Si deve aversi Sperman Zorbrani profonda Grazie a tutti Grazie a tutti